Uno dei problemi più comuni da risolvere quando si sviluppano applicazioni multiforme è la condivisione di valori, di variabili se preferite, tra due form. Immaginate perciò che da una prima form principale in qualche modo si possa aprire una seconda form e che questa possa ricevere dalla prima un valore contenuto in una variabile. La seconda form potrà, se necessario, modificare questo valore e alla chiusura della seconda form la prima deve ritrovarsi con la variabile modificata. Con alcuni ambienti di programmazione e linguaggi, come C Sharp, la cosa è molto semplice. In pratica la prima form dice che vuole usare la seconda, specie di include, e la stessa cosa fa la seconda che dice che vuole usare la prima. Questo però, trasportato nel mondo del C++, si scontra contro un problema che è tipico, cioè dei riferimenti circolari tra i punto H, tra gli include. Cioè, se in un certo sorgente diciamo di includere un altro e nell'altro diciamo di includere il primo, si viene a creare una circolarità che mette in crisi il compilatore. Ci sono più tecniche per approcciare il problema. Io vi presento quella che dal mio punto di vista è la più semplice, magari non la più pulita dal punto di vista dei puristi, ma è appunto la mia proposta. La mia idea è quella di utilizzare una, definiamola così, classe di servizio, che funga da contenitrice per le variabili che devono essere condivise tra le forme di un'applicazione. Ed ecco la piccola applicazione che ho intenzione di farvi sviluppare per testare il meccanismo. Abbiamo una variabile n, intera, che deve essere condivisa tra due forme. Possiamo vedere il valore attuale di n facendo clic su questo bottone, 0, perché è stata appena inizializzata. Apriamo poi la seconda form che ci conferma che in ingresso la variabile vale 0 e che ci permette di assegnarle un altro valore qualsiasi. Quindi diamo a denne questo valore. Se chiudiamo la seconda form, ora avremo la conferma rifacendo clic sul bottone mostra valore, che il passaggio del valore tramite la classe condivisa è effettivamente funzionante. create allora un'applicazione c++.net sulla form principale disponete due bottoni. Io ho chiamato il primo apri form 2 btn e il secondo valore valore n btn. Poi i nomi sceglieteli come volete, certamente non è questo quello che conta. Aggiungete poi una form e userete chiaramente il modello Windows Form, scegliendo qua il nome che preferite. Io l'ho chiamata semplicemente form 2. Su form 2 aggiungete il test box, che io ho chiamato valore txt, potete vedere qui, e il bottone che ho chiamato assegna valore btn. Ora introdurremo la classe per condividere le variabili. Usate il comando aggiungi classe. il modello è classe c++ aggiungi qua date il nome se volete dare quello che ho usato io variabili condivise ora qui posso simulare var condivise il codice verrà splittato nel .h e nel .cpp lasciate pure come modalità di utilizzo della memoria quella gestita confermate confine io ora invece annullo ed eccoci sul .h l'interfaccia di variabili condivise le variabili da condividere conviene metterle comunque in una zona dichiarata privata quindi private normalmente avreste scritto semplicemente int n ma per praticità poi vi spiego il perché conviene definire questa variabile come statica cioè più che per praticità questa è proprio una necessità ne correggo la praticità è quella invece di dichiarare static questi metodi che poi commenterò quindi questo proprio è un obbligo e ora vi spiego subito il perché se non mettessi questo static ogni oggetto creato come di classe variabili condivise avrebbe una sua coppia privata distinta da tutte le altre dalla variabile n quindi se la form 1 dichiarasse e creasse un oggetto di classe variabili condivise potrebbe sì dare un valore n e la stessa cosa potrebbe fare anche la seconda forma ma in realtà si tratterebbe di due oggetti distinti con due distinte variabili n e non è quello che ci serve nella programmazione OOP c'è per fortuna invece la possibilità di dichiarare una variabile o un metodo di una classe come static è una specie di variabile condivisa tra tutti gli oggetti che verranno creati di quella classe in pratica ce n'è una sola copia a disposizione di tutti gli oggetti che verranno creati di quella classe adesso la situazione è completamente diversa se qui nella form 1 crea un oggetto di classe variabili condivise accedo alla n che sarà la stessa n accessibile dalla seconda form la variabile è appunto condivisa e unica essendo la variabile private oltre a costruttore devo definire dei metodi setter e getter la terminologia la letteratura informatica li definisce così li chiama così per cambiare il valore di una delle variabili dello stato interno private o per leggerne appunto il valore il primo metodo il setter quello che setta cioè che cambia il valore di n e che io ho chiamato molto semplicemente set n riceve come unico parametro il valore da assegnare non restituisce alcun valore quindi un void e poi estetic tra un po' vi spiego cosa vuol dire l'altro metodo complementare che invece serve a osservare a ottenere il valore attuale dalla variabile n l'ho chiamato di nuovo semplicemente get n mi restituisce un intero essendo ovviamente n intera allora dicevo questo stetic è necessario perché rende unica la variabile condivisa questo stetic e questo è invece una convenienza qualcosa che rende più semplice l'utilizzo della classe variabile condivise che cosa ha di particolare un metodo stetic semplicemente che per poterlo invocare non sono costretto a creare prima con il gc new o il new un oggetto della classe di cui è metodo siete già abituati in realtà ad usare i metodi statici ad esempio tutte le volte che richiamate la classe convert non lo fate per chiamare il metodo toint 32 tostring attraverso una preventiva creazione con il gc new di un oggetto di classe convert scrivete semplicemente convert e poi con l'operatore di accesso scoping ecco che vi si srotola l'elenco di quelli che guarda caso sono i metodi statici della classe convert allo stesso modo è possibile accedere ai metodi statici della nostra classe di servizio variabili condivise semplicemente scrivendo il nome della classe e il doppio due punti vediamolo intanto vediamo anche la parte cpp della classe variabili condivise includete l'interfaccia il punto h il costruttore non fa proprio nulla e i metodi statici sono implementati con questo codice nulla di strano il parametro che viene ricevuto dalla set n viene assegnato ad n e quando viene invocato il get n abbiamo semplicemente un return n questo almeno a livello minimale se poi voi voleste implementare una logica leggermente più sofisticata per controllare l'accesso a queste variabili condivise siete liberi di fare quello che volete andiamo a vedere i metodi nella form 1 questo è l'evento gestore del click sul bottone che apre la seconda form quindi il gestore dell'evento click di questo bottone per intenderci come mi avete visto dimostrare all'inizio la prima cosa che si fa è dimostrare un messaggio con il classico message box e ora sapete finalmente perché stiamo scrivendo così l'istruzione che tutto sommato sta chiamando un metodo molti di voi forse da un pezzo si dicevano ma perché quando scrivo un message box spunto e uso invece quell'altro tipo di notazione questo ora lo sapete show è un metodo static della classe message box proprio per rendere più semplice l'utilizzo anche perché la creazione di un oggetto message box non porta nulla per cui queste classi che mettono a disposizione comandi funzioni metodi di calcolo o di servizio un po' generale un po' come se fosse delle utility spesso vengono incorporate in classi e resi disponibili tramite la caratteristica degli elementi che sono static ok qua accediamo vedete classe variabili condivise due punti due punti get n siccome non ho ancora dato un valore è 0 il valore di default per una variabile intera static qua creiamo un oggetto di tipo form2 memorizziamo il suo riferimento in un puntatore chiamato novaform di tipo form2 creiamo con gcnew form2 poi comandiamo la visualizzazione della form2 con il metodo show form2 abbiamo dov'è qua soltanto da vedere cosa succede facendo click su questo bottone eccoci qui prendo quello che è stato scritto nella casella di testo valore txt e non sto facendo nessun controllo sul fatto che potrebbe essere vuota o contenere qualcosa che non è convertibile in numero non è questo quello che ci interessa in questa lezione e lo converto in un intero e lo uso come parametro invocando il metodo setn della classe metodo statico della classe variabili condivise assegnando così quel valore alla variabile condivisa n beh questo potrei a questo punto anche fare a meno di spiegarvelo quando ritorno o comunque decido di andare ad osservare dalla form 1 il valore di n mi limito ad invocare il metodo getn statico della classe variabili condivise che mi restituisce il valore in quel momento di n che provvedo a convertire stringa e a visualizzare con il message box con questa tecnica non c'è nessun problema a condividere strutture e dati anche molto grandi e molto sofisticate basta scrivere per bene i metodi di accesso e avrei finito la video lezione non c'è nessuno